lo prendi in mano e capisci subito se è un telefono che va o non va e la seconda cosa da cui lo capisci è la vibrazione assurdo i telefoni che hanno la migliore vibrazione poi sono quelli che vanno meglio bella raga nuovo appuntamento nuovo passa dal basement ci siamo ciao io sono Gianluca Gazzoli pronti per una nuova chiacchierata pronti anche un po' ad ispirarvi con le chiacchierate che stiamo facendo qui al basement una delle cose belle è proprio questo che alla fine di ogni chiacchierata vi resta qualcosa addosso che vi portate nei giorni successivi e questo è ovviamente in base anche agli ospiti e agli amici che ci vengono a trovare oggi sono molto contento tra l'altro se ancora non l'avete fatto iscrivetevi a questo canale e attivate anche la campanella che ho scoperto essere indispensabile per non perdervi neanche una puntata neanche una chiacchierata neanche un incontro io direi che quello di oggi è da non perdere perché voi sicuramente sulla piattaforma nella quale ci state vedendo è youtube lo avrete visto in mille modi ma oggi lo vedrete anzi lo sentirete in un modo unico e nuovo almeno spero sto parlando di Andrea Galeazzi senti il pubblico Andre grande pubblico lo senti? questo è il pubblico del colpo di scena perché abbiamo appena scoperto una cosa Andre è arrivato al basement ovviamente sei arrivato col tuo stile sei arrivato con una bici una bici, pesata sestita, elettrica, pieghevole, tech, smart caschetto, perfetto l'ordinanza sembra sempre che arrivi dal futuro tu ma in realtà ormai il futuro è il presente perché a Milano ormai non fa più strano vedere qualcuno che si muove così ti dico che già 4-5 anni fa io andavo in giro con quello che mio figlio chiamava ruotone cioè una pedana autobilanciante con due ruote che adesso è un po' fuori moda addirittura è quasi vecchia e a Milano non mi filava nessuno quando guardavo i commenti dei miei video la gente mi scrive ma come fai ad andare in giro e nessuno ti guarda se lo facessi qua al mio paesino tutti mi guarderebbero malissimo quello è vero diciamo Milano è la Londra d'Europa Londra è quel posto in cui puoi andare in giro con i capelli fucsia e nessuno ti dice niente Milano un pochino forse lo sta diventando in proporzione dai rispetto invece al resto d'Italia e il luogo in cui si trova il basement che non ho mai detto non ho mai svelato lo sanno solo pochissimi eletti diciamo tra virgolette è in realtà il civico prima di dove sei nato tu incredibile questa storia vera ho chiamato mia mamma per chiederle il civico giusto perché mi ricordava tantissimo io sono stato qua a Milano sono nato qua e ho vissuto fino all'età di 6-7 anni poi ci siamo trasferiti in provincia e quindi 6-7 anni qualcosa mi ricordavo ma non benissimo e aveva proprio il sapore di infanzia sono super felice è una figata vedi che niente accade per caso e quindi scherzi a parte sono molto contento quando ci conosciamo da un po' di anni abbiamo fatto anche tante cose insieme di lavoro ci siamo visti quest'estate a Riccione sia nelle cose professionali che anche un po' più di divertimento tipo in spiaggia che non era male ma anche in retropalco anche in retropalco è vero DJ on stage grazie dell'invito chi c'era quella sera che non mi ricordo era il mio compleanno era il tuo compleanno Gianni Morandi c'era Gianni Morandi serata incredibile con Gianni Morandi e poi finalmente insomma ci tenevo tanto perché ovviamente sui social vediamo tante cose che fai su youtube in particolare racconti insomma tiri in mezzo anche componenti della tua famiglia però sono capitati i contesti in cui ti sei raccontato invece dove hai raccontato un po' il tuo percorso che ho sempre trovato molto interessante l'ho fatto ovviamente su youtube perché è la mia piattaforma di lezione bravo la campanellina è fondamentale io non lo dico mai non ce la faccio mai perché io sono così concentrato nel raccontare le cose che sto provando facendo così che mi dimentico sempre li scrivetevi ma guarda allora ne approfitto dato che siamo già entrati in questo argomento sulla campanellina sono stato violentato da Ricky e da Fra e da Andrea dagli altri ragazzi con cui lavoriamo passa dal basement perché mi dico ricordalo dillo perché effettivamente stiamo guardando e abbiamo guardato tante volte controlliamo i dati è incredibile come agli iscritti cioè molta gente arriva molta più gente a vedere il video dalla home dai consigliati da tutto quanto rispetto agli iscritti e allora ricordo la campanella quindi ricordo la campanella ma c'è tutto un linguaggio legato a youtube allora ne approfitto che ci sei tu perché ok io sono un pochino più piccolo di te però siamo comunque tu una generazione io una generazione comunque una generazione più grande rispetto magari ad alcuni che utilizzano youtube in questo periodo ci sono delle cose che io proprio non riesco a dire pur essendo su youtube e facendo video su youtube da tanti anni questa della campanella mi sono violentato nel farlo ma si può fare ci può stare poi tipo c'è stato tutto il periodo dello spolliciate se arrivate a 10.000 commenti 2.000 like 5.000 like mi taglio i capelli esatto quella è un'altra cosa che non riesco proprio a fare sai cosa neanch'io io sono nato prima che naccesse youtube ho iniziato a fare video prima di youtube usavo altre piattaforme che erano carissime questo te lo racconto certo mettevo i miei video su server dedicati i video 320x240 quindi qualità infima si parla del 2000 tipo andavano pagati tanto cioè non era la piattaforma che pagava te ma tu che pagavi la piattaforma per il servizio per poter starci quando è nato youtube c'è il paese del bengodi tutto gratis non solo ti pagano pure perché ci mettono la pubblicità e quindi diventa una piattaforma molto più democratica rispetto a prima dove i video in pochi li potevano caricare su internet quindi è cambiato tutto e essendo di quella generazione di per me youtube è un po' come se fosse uno strumento cioè lo metto lì perché è gratis quindi iscrivetevi la campanellina arriva i 10.000 che sono tutti giochini per svegliare un po' l'algoritmo perché probabilmente più like fai più interazione engagement eccetera eccetera non ce l'ho mai fatta perché arrivo da quella da quell'estrazione lì sbagliando anche mio figlio mi dice oh papà cioè mio figlio ha 12 anni è molto più è sul pezzo è sul pezzo infatti mi fa di andare su tiktok ci sto iniziando a provare ma dillo fallo perché a volte la gente così non si ricorda non ci pensa se lo dici lo fa anche perché io mi rendo conto che la maggior parte delle persone che seguo i miei contenuti per dire ma anche quelli di anni fa è la gente che non si cioè non so come dire lo guardo io stesso mi sono iniziato a iscrivere poi quando ho iniziato a capire che comunque era importante anche per i creator che magari volevo supportare no il fatto dell'iscrizione però mi guardavo il mio contenuto ero contento me lo riguardo anche il giorno dopo quel concetto lì effettivamente anche andarlo a a esplodere a estremizzare tante volte boh l'ho sempre trovato un po' un po' brutto ma anche io quando vedo le persone che dicono iscrivetevi fate se arrivate a 10.000 commenti certo non mi fa impazzire però quelli sono come dici tu anche meccanismi che però in ogni caso a volte pagano perché se poi vai a vedere dipende sempre a chi ti stai rivolgendo e poi nelle persone ormai è entrato un po' come l'interruzione pubblicitaria del film ormai quando c'erano ero un po' abituato c'era la pubblicità che palle però era quasi eri quasi abituato anche adesso l'interruzione su youtube della pubblicità sai che c'è vabbè non è che fa così brutto all'inizio a me anche quello dava fastidio all'inizio non monetizzavo i video proprio perché che palle la pubblicità poi ho detto vabbè sai che non è che posso fare tutto gratis per la gloria da qualche parte dovrò pure avere delle entrate anche perché il tuo lavoro qual è adesso come sai che questa è la domanda più difficile che mi potessi dare come faccio a definirmi nel senso architetto ma faccio molto poco ormai l'architetto da quando 5-6 anni fa ho aperto il mio blog ho deciso di farlo seriamente sono diventato grande pensavo il termine quindi faccio il blogger e faccio lo youtuber di tecnologia e di auto e quindi faccio un po' quella roba lì certo provo cose ecco provo cose provo testo per voi lo faccio per voi beh però mi fa cioè dici comunque sempre prima architetto beh un po' ci tengo perché poi alla fine anche quella è stata una passione ci ho studiato è stato ma ci ho anche lavorato ci ho fatto anche dei bellissimi progetti belle ville eccetera eccetera poi ti scatta quella cosa anche per colpa di alcune brutte situazioni che sono capitate e allora ho detto va bene apri il mio blog e ci credo quindi sei partito proprio con il blog vero e proprio sono partito con il blog sito perché appunto sono vecchio e quindi sono partito con quella cosa lì youtube ovviamente parallelo e poi tutti i social di contorno ok cioè quindi andiamo indietro cioè tu parti fai l'architetto inizi quindi subito come architetto però hai sempre avuto una passione per tecnologie e robe varie inizio come tecnologo perché già da 5-6 anni mio nonno mi affiancava e costruivamo amplificatori valvolari riparavamo televisori saldature fumo dello stagno quelle robe lì quindi ero sempre appassionato smontavo radio sveglie prolungavo fili allora ne approfitto che c'è un problema col mix fai conto che letto radio sveglia quelli anni 80 non so se hai presente quelli con i led rossi no però li ho visti li ho visti avevo smontato la tastierina perché io dormivo così avevo il comodino dietro mazza che scomodità avevo prolungata con dei fili ho messo la tastierina sul letto c'è un telecomando 40 anni fa sul letto quindi hai sempre avuto diciamo una un pallino una dedizione una passione verso questa parte qua sì però poi giustamente i miei cioè devi studiare devi fare qualcosa trovati una una tua strada quella del prima geometra poi architetto mi piaceva tanto perché mi consente di avere grandi soddisfazioni perché da un'idea poi vedi una cosa realizzata e vedi la realizzazione anche del cliente che ti segue che magari capisce le tue idee insieme progettate qualcosa ed è una cosa bellissima pensare una cosa su carta e vederla realizzata però parallelamente c'era questo discorso della tecnologia grazie a un amico Luca Bordoni che saluto siamo andati a Brescia abbiamo proposto questa cosa all'allora telefonino.net che era il sito leader in Italia della tecnologia che anni stiamo parlando? prima del 2000 fine anni 90 è un sito di tecnologia a fine 90 di che cosa parlava? di telefoni perché erano i primi i primi i primi cellulari non erano smartphone cioè quelli grossi quelli grossi quelli etax quelli a valigetta quelle cose lì e già allora c'era internet ma con i modem analogici esatto lentissimi però stava nascendo una community e gli appassionati gli early adopters avevano tutti i modem i computer ci perdevamo veramente le ore su queste cose qua su telefoni che erano stupidi non facevano niente ma per noi sembrava una cosa fighissima quindi c'erano questi siti pochi in Italia telefonino.net era tra i più importanti allora poi per vicissi adesso purtroppo non c'è praticamente più e l'allora editore illuminato Nicola che saluto ha detto cacchio che figata Nicola era avantissimo e abbiamo fatto iniziato a fare le prove le videoprove le prime videoprove quindi proprio quello che poi abbiamo iniziato a vedere magari successivamente su youtube quindi tu che ci mettevi la faccia da subito no solo le mani all'inizio nessuno sapeva chi fossi tutti vedevano solo le mie mani perché inquadravo il telefono dall'alto con le mani quindi provavi il telefono raccontavi quali erano le sensazioni come andava allora erano molto più diversi i telefoni rispetto a oggi oggi ed è il motivo anche per cui ormai parlo della tecnologia a 360 gradi è che i telefoni sono tutti uguali quindi tra virgolette noiosi fanno tantissime cose ma sono più o meno sono lì allora c'era quello che si apriva quello che aveva una forma quadrata tonda la fotocamera si la fotocamera no ovviamente all'inizio non aveva la fotocamera la fotocamera che si attaccava c'era molta più diversità tra i form factor in quel caso un business come quello che era allora il sito come funzionava cioè c'era sempre si guadagnava dalla pubblicità che mettevano sul sito immagino di sì perché allora il sito non era mio io ci lavoravo anzi per me era un onore io l'avrei fatto assolutamente gratis perché per me già aver la possibilità di provare i telefoni condividere ma per dire per farti capire che non avevo maniera di protagonismo ma lo faccio proprio per passione non ci mettevo la faccia la gente non sapeva chi fosse era un qualcosa che tu facevi perché ti piaceva che ti piaceva e tu quanti anni avevi lì scusami io sono del 73 27 quindi giovanissimo ok e nel frattempo facevi comunque l'architetto sì nel frattempo ho finito l'università quindi hai portato avanti queste cose insieme per un po' assolutamente sì ok parallelamente e questo per me è stato un grossissimo vantaggio ti spiego perché avendo un lavoro come architetto quindi scritto all'ordine il mio studio comunque lavoricchiavo come architetto facevo dei bei progetti e tutto questo mi consentiva di comprare e vendere perché poi facevo così telefoni ok e questo mi consentiva di essere libero perché nessuno mi regalava telefoni nessuno mi dava telefoni me li compravo me li vendevo se un telefono era bello dicevo che bello se un telefono era brutto dicevo che brutto ok questa cosa unito al fatto che sono stato tra i primi in Italia a fare questo ha fatto sì che conquistassi la fiducia della gente perché dicevo quello che era non eri diciamo in qualche modo contaminato dal fatto che quel telefono te l'avevano regalato quindi ti sentivi in dovere di dover dire una cosa bella anche se non la pensavi quindi che sbatti tutte le volte ti prendevi un telefono e lo dovevi poi rivendere ma vedi per te lo sbatti per me è una figata e questa è la grande differenza io allora prendevo seconda mano che era un giornale cartaccio vedevo gli annunci c'era l'annuncio di un telefono che mi piaceva pronto ci vediamo così andavo a Milano scambio pagato dopo una settimana di prove facevo il video lo rimettevo su seconda mano perché allora l'online non andava così tanto e via lo vendevo cazzo e quindi e così quali sono stati i telefoni che ti ricordi del percorso in modo particolare tutti i primi telefoni dal 3310 al T68 di Sony Ericsson il primo telefono con display a colori il Siemens S4 e quindi per quanto tempo tu sei stato Andrea Galeazzi di un sito di Telefoni.net fino a dieci anni fa più o meno ah ok quindi comunque sono stati tanti anni sì poi ho cambiato editore e poi alla fine sei sette anni fa ho deciso basta hai detto sei com'è mi apro il mio blog ma già facevi youtube anche quando sì Telefoni.net siamo passati su youtube proprio per terra gratis sul canale di Telefoni.net quindi quando poi hai aperto il tuo blog hai aperto anche il tuo canale youtube esatto ok che oggi conta quanti iscritti quasi un milione e tre un milione e due un botto di iscritti e la cosa bella è stata anche insomma delle cose insieme degli eventi insomma io ho notato anche quest'estate quando eravamo abbiamo fatto una cosa insieme con gli amici di samsung e tanta gente viene da te ti chiede consigli insomma perché mi vede un po' come l'amico a cui chiedere il consiglio questo era bellissimo beh quella è una figata che si è creata poi da quando ti sei messo per i fatti tuoi no? ma in realtà anche prima sai perché tanti scambiavano che mi si chiedono su youtube Andrea Galeazzi per Telefoni.net per comunque gli editori come sono andato dopo fai conto che nella mia vita ho fatto partire tipo 4-5 canali youtube perché poi prima di decidere di mettermi proprio ho fatto un po' di passaggi tra gli editori perché ci ho messo così tanto? ma sempre per quel motivo che dicevo prima non mi interessava guadagnarci perché facevo l'architetto lo facevo per passione poi però quando scopri che questa passione ce l'hai tu ma gli altri ne approfittano ti girano le scatole e quindi ho aperto nel blog vi è andata bene da subito? sì 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 io avevo paura che non andasse bene ma perché è stata una scelta proprio dall'oggi al domani fai conto che io ho registrato andreagaleazzi.com il dominio fine ottobre il primo dicembre dello stesso anno ovviamente ero online con tutto ok quindi è stata proprio una roba che ho deciso così la faccio pronti via pronti via e che però quindi fin da subito la gente comunque ha seguito te ha iniziato a seguire le tue avventure sì perché comunque non vedendomi più mi cercava mettendo nome e cognome per quello ho chiamato il blog come me perché era l'unica arma per farmi trovare poi dalla gente e questa cosa che tu hai fatto un botto di robe prima quindi hai visto veramente l'evoluzione tecnologica ti dà dei punti di vantaggio rispetto invece alle nuove generazioni che fanno lo stesso tuo mestiere? secondo me sì perché ho più idea di quello che c'è dietro oggi chi usa la tecnologia magari anche giustamente la usa chi se ne frega di quello che c'è dietro processore chi se ne frega dell'hardware del ferro io avendo visto magari l'evoluzione riesco a rendermi più conto se una cosa è buona o meno buona ok quindi sono tutti gli aspetti che guardi quando poi analisi sì ma anche a livello di software cioè io ho iniziato con il DOS dove facevo format c due punti per formattare un hard disk cosa che adesso la gente non sa neanche cos'è certo e quindi quello ti porta un background che ti consente di avere più conoscenza e banalmente più conoscenza poi ti consente di giudicare un prodotto secondo me più approfonditamente anche se alla fine il mio video è sempre molto pop nel senso che ti dico questo display e ti do tante specifiche due o tre ma alla fine ti dico si vede bene si vede male però dietro quel si vede bene si vede male c'è tanta conoscenza e tanta esperienza che questo è il tuo vantaggio poi rispetto alle generazioni precedenti c'è qualcosa invece in cui ti senti invece in svantaggio rispetto a chi si approccia adesso invece al mondo della tecnologia si è l'essere un po' passami il termine lento un po' vecchio un po' adesso mi rendo conto che il linguaggio di TikTok Instagram Reel gli short di YouTube è veramente tanto veloce e io faccio fatica a condensare perché a volte mi perdo in chiacchiere in 15 secondi in un minuto la gente vuole sapere subito chi se ne frega di tutti i fronzoli faccio un po' fatica su quello che però è anche la tua forza cioè nel senso i tuoi contenuti sono spesso tu che racconti cose dinamiche pensieri anche un po' più profondi che difficilmente riesci a mettere dentro a un contenuto magari di 15 secondi è vero tant'è che a volte i video vanno bene perché ci sono dentro dei pipponi ogni tanto mi parte l'embulin si parla di una roba e quindi per assurdo si apprezzano tanto anche perché altro si lega di più la gente nel senso gli resta anche più impresso li conquisti diventano parte anche tu diventi parte poi in qualche modo della loro vita quindi insomma di contenuti quanti video avrei fatto da quando ho iniziato da quando ho iniziato 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 secondo me almeno 4.000 una roba è un bot è un bot te li monti sempre tu? me li monto sempre io sì sì questo è sempre stato anche un mio difetto quello di far fatica a delegare mi rendo conto che c'è chi li monterebbe molto meglio di me soprattutto con un linguaggio magari più giovane più fresco però il montaggio è un linguaggio e non tanto nelle recensioni che quelle non sono praticamente montate ci appiccico su una scheda tecnica è morta lì perché a me piace proprio raccontarti da la alla z un telefono senza tagliare perché io parlo e dico cose ma la gente che guarda magari si fa un'idea diversa perché vede alcune cose che per lei sono importanti quindi alla fine non taglio mai perché poi i video molto tagliati sono anche quelli che puoi mascherare cioè se il telefono si blocca così da un tagliettino e qualcosa di non si vede ma sincero li ho sempre fatti così i vlog e quindi quelli potrebbe montare chiunque ho avuto un periodo in cui c'era una persona che li montava i vlog me li monto io perché anche lì è un linguaggio magari la parola sì questa roba no voglio evidenziare una roba o un'altra e poi come dicevo prima non riesco a delegare quando facevo l'architetto io andavo sul cantiere andavo a vedere gli operai che facevano la malta che posavano i mattoni che mettevano le piastrelle che facevano l'impianto elettrico idraulico perché a parte mi piaceva imparare sono sempre stato un curiosone quindi volevo capire come funzionasse poi imparando da loro nei successivi progetti riuscivi ad avere una marcia in più a risolvere problemi prima e poi mi piaceva proprio stare in cantiere beh proprio a proposito di questa autenticità anche del contenuto tu fai anche un sacco di collaborazioni con brand vari che giustamente o ti inviano il telefono o addirittura insomma c'è delle collaborazioni più strutturate eccetera come fai a mantenere la tua credibilità anche quando fai un contenuto per un brand che ti paga per parlare di quel telefono questa è una cosa che mi sono sempre chiesto in realtà ne abbiamo parlato quindi un po' la risposta la so però secondo me è un concetto importante allora è sempre un sottile equilibrio di ruoli quindi difficilmente il brand mi dice parlane bene perché ormai mi sono creato uno storico che mi consente di parlare comunque di un prodotto in maniera trasparente cioè di dire quello che penso anche se è un contenuto sponsorizzato tieni conto che le recensioni non sono praticamente mai sponsorizzate perché la recensione è una cosa che è personale personale poi ci può essere il video in collaborazione dove parlo di un prodotto di una cosa ma non è una recensione ti racconto il prodotto e quelli si sono sponsorizzati ma questo equilibrio si è creato proprio nel tempo e a volte non ti nascondo che ho avuto forte pressione ti faccio un esempio ho provato questa era una cosa di 4-5 anni fa quindi si può raccontare e poi è una stupidata avevo fatto un contenuto sponsorizzato per Sony sulla Playstation e avevo raccontato degli aneddoti di quando ero giovane perché lì c'erano tutte le belle Playstation esposte e mi ricordo che io avevo messo il famoso chip sulla Playstation 1 o 2 per far girare tra l'altro non l'avevo neanche fatto per far girare i giochi taroccati l'avevo fatto per far girare i giochi giapponesi per poter avere quelli di importazione quella roba lì ho raccontato questa cosa in un video che ho fatto per loro no non va bene devi tagliarla devi tagliarla non va bene allora gli ho detto no piuttosto non va online ma quella roba lì la lasciamo perché è una mia esperienza una cosa figa personale non incita la pirateria perché voglio dire è anche una cosa che non si riesce neanche più a fare ma poi l'avevo fatto per giocare giochi giapponesi e alla fine ho dato online così quindi ho detto così io ciao ma non ti paghiamo e chi se ne frega però lì vinceva l'autenticità del contenuto sì secondo me devi essere sempre vero sì ma io l'ho visto anche quando abbiamo fatto delle cose insieme che c'erano delle cose a cui tu tenevi e che non volevi diciamo prescindere non erano giudizi erano cose tipo tipo questa come racconto e questo alla fine alla lunga credo che paghi tu invece vedi senza fare nome ovviamente ma vedi invece colleghi tuoi che su questo invece sono un po' più diciamo sì lasciano ce n'è no per cui diciamo la sponsorizzata in qualche modo va a incidere anche su un giudizio ma sai cosa che a volte è anche inconsapevole nel senso io che me li compravo e li rivendevo i telefoni ma ti dico questo faccio anche un po' un mea culpa da quando sono diventato tra virgolette un canale grande importante non posso più neanche farla questa cosa perché i telefoni mi danno prima che escano sul mercato quindi c'è cosa compro che non è ancora uscito mi mando un telefono e lo provo questa cosa di non comprare più con i soldi e vendere con i soldi veri prodotti non dico che mi condizioni perché mi danno il prodotto ma è diverso quando mi compro un prodotto perché ancora capita a volte mi scimmia qualcosa me lo compro dico cavolo l'ho pagato 300 euro ma li vale quei 300 euro quando mi danno un prodotto da provare non li ho tirati fuori è comunque un giudizio un po' diverso mi rendo conto anch'io che sono molto super partes che cerco di essere molto oggettivo nella soggettività del mio giudizio di essere un filo io una cosa ti dico da utente anche le tue recensioni io quando prendo una roba ad esempio le tue le guardo le guardo sempre e su qualsiasi tipo di prodotto perché poi tu fai veramente un sacco di cose così come guardo anche altri colleghi la roba che non sopporto di quando guardo alcune recensioni è quelli che è tutto bellissimo cioè tutte le cose che sono tutte belle è impossibile cioè su qualcosa mi stai prendendo in giro su qualcosa quanto è sai come nei talent show che c'è sempre il giudice il giudice stronzo tu ti senti nella giuria di X Factor di Italia's Got Talent non lo so e quale giudice ti senti di Masterchef mi piacerebbe essere Mattano che lui è un po' stronzino un milino a volte ce l'ha lì poi è anche uno show quindi in qualche modo devono anche tutti caricare sono abbastanza flat nel senso penso di essere abbastanza giusto ok quella è la prima cosa imprescindibile ecco non so uno prende un telefono e lo deve giudicare quali sono le prime cose che deve vedere in assoluto come sta in mano lo prendi in mano e capisci subito se è un telefono che va o non va e la seconda cosa da cui lo capisci è la vibrazione assurdo i telefoni che hanno la miglior vibrazione poi sono quelli che vanno meglio per miglior vibrazione intendi che non è né troppo forte né troppo debole che non c'è la coda che quando lo muovi magari senti la mollosità sai ho degli aggettivi la mia vibrazione zanzarosa mollosa maschia quella è un po' debole dovrebbero farlo metterlo nel menu questo dovrebbero metterlo praticamente nel menu e la cosa più bella che tu hai recensito fino ad oggi ah il robot aspirapolver mi sono scimmiato è vero che tu hai fatto non mi caga nessuno non so se si può dire perché ah perché il robot aspirapolver diciamo non è un argomento così cool non fanno tante visualizzazioni però qua è un altro argomento che a me delle visualizzazioni interessa ma fino a un certo punto però piace a me perché lì capisci proprio l'intelligenza artificiale di chi li ha programmati perché capisci quelli sono intelligenti quelli stupidi quelli che mappano bene quelli che lavano meno quelli che lavano meno bene quelli che riconoscono i tappeti o meno a me sta cosa scimmia non interessa a nessuno solo a me però lo faccio lo stesso perché mi piace beh auto fai tanto anche auto adesso i mondi tecnologie auto si stanno avvicinando sempre di più e sarà sempre più così vedo che quasi tutti quelli che fanno tech fanno anche auto perché così sono due monti che si stanno avvicinando la rivoluzione che c'è stata nello smartphone che da telefono è diventato smartphone quindi una decina di anni fa quando sono iniziati i primi sistemi operativi fotocamere eccetera eccetera applicazioni soprattutto adesso sta avvenendo il mondo delle auto con la transizione da termico elettrico ok che va tutto in quella direzione quindi direzione di integrazione sempre più importante il sistema infotainment come stai a bordo cosa puoi fare a bordo rispetto a aprire il cofano e guardare il motore ormai non lo fa nessuno chi apre più il cofano della propria macchina una volta tutti adesso anche perché lo apri se ti si ferma la macchina tu lo apri dici vabbè adesso che cazzo devo fare non hai molte possibilità perché ormai sempre più roba anche Formula 1 tu sei appassionato di corse di super appassionato io ho corso coi kart tanti anni fa ho fatto un campionato anche un 125 nazionale poi costava troppo basta è beh chiaro non hai idea io ero scappato di casa con un mio amico avevamo comprato un kart ma il kart costa di per sé il kart ma non costa tantissimo comprarlo costa mantenerlo tu fai conto che tutte le volte che vai a girare spacchi qualcosa quattro gomme benzina olio pista meccanico infatti io andavo con un amico perché era anche meccanico mettevamo il kart sul tetto le barre portatutto non neanche il carrellino per quanto eravamo scappati di casa però divertentissimo beh quindi vedi che è sempre stato un argomento comunque legato per te in qualche modo ma fai conto che io parlo di me nei miei video anche quando faccio le prove sono prove mie provo cose che mi piacciono quindi auto tecnologia vorrei parlare un pochino più di architettura ma faccio fatica beh però se ce l'hai talmente tanto dentro ci sono c'è gente che parla sì ce ne sono creator sì mi piacerebbe raccontare di edifici particolarmente tecnologici ma non è facile perché poi quelli belli magari i proprietari non vogliono che fai vedere casa loro gli edifici magari poi diventano aziendali fai fatica perché poi ci vogliono mille autorizzazioni è complicato mi piacerebbe ma è complicato il prodotto più figo che hai recensito non so adesso non so se tu fai anche la tua classifica ad oggi lo smartphone più incredibile che ci sia se la giocano se la giocano Samsung ed Apple sono loro due sempre a fare il campionato se vai sul top di gamma sì anche se ha sempre meno senso comprare un top di gamma e spendere 1700 1800 euro per un utente comune per un creator come puoi essere tu che fai tanti contenuti social come posso essere io ha senso perché poi hai qualità hai velocità di esecuzione ma per un utente che li fruisce e che non ha bisogno di fare contenuti che non è creator se stai sui 400-500 euro hai fatto bingo non hai differenze percepite rispetto a un telefono da 1800 certo ce le hai su magari cam e contenuti da creator quindi dipende sempre tu cosa devi fare con il tuo telefono esatto ma infatti quando mi chiedono chi non mi conosce mi fa ma dai Andrea dimmi qual è il migliore telefono io dico dipende certo a quali sono le tue esigenze e b quanto vuoi spendere non c'è un migliore in assoluto come le macchine ma immagino che quando tu sei a cena con i tuoi amici o la roba cioè ti usino tutti per chiederti sta roba qui ho messo la tariffa 5 euro consulenza diventa una consulenza e qual è il tuo rapporto con chi ti seguo con quello che ti iscrivi cioè loro immaginano le persone oltre a commentarti i video ti iscrivono privatamente ti mandano le foto cioè lo fanno con me che non faccio recensioni di niente però magari vedono che uso delle cose poi giustamente perché poi la cosa incredibile del social è che si è tutti amici si crea questo rapporto magari ti chiedono un consiglio con un altro tu che fai questa cosa così verticale è bellissimo soprattutto perché appunto mi chiedono sempre consigli quando ci vediamo poi si è creato un rapporto come dici tu quasi di amicizia quindi quando qualcuno mi saluta che ovviamente io non so chi sia però è come se fosse un amico della community e la cosa bella è che sotto al mio studio io ho una targhetta dove c'ho scritto Andrea Galeazzi dove c'ho lo studio e mi mettono i bigliettini iscritti a mano soprattutto quelli che vengono da lontano non so vengono a vedere Milano passano di lì mi scrivono un bigliettino ciao Andrea sono passato di qua sono ah grazie ma che figata bellissimo ne trovo sempre un paio a settimana e mi riempiono il cuore infatti ogni tanto faccio un post su Instagram dove li raccolgo li ringrazio beh sta roba è fighissima pacchi quanta roba ti arriva a te un botto manca terva tu hai il tuo studio che era il tuo studio di architettura o è un posto che poi hai creato ad hoc per la tecnologia era il mio studio di architettura tant'è che all'ingresso c'è ancora scritto studio di architettura ma in realtà io sono ancora iscritto all'albo per amici e parenti il bagnettino magari lo sistemo ancora perché è una cosa anche quella che mi piace e poi diciamo sarà la mia pensione forse ho fatto i soldi all'inarcassa però era il mio studio che ho trasformato nella cantinetta che è diventato poi appunto anche un punto di riferimento per chi ti segue perché lo racconti il posto si vede non pensi che quasi tutti ad esempio io abbiamo creato questo posto proprio per questo perché poi tutto va nella direzione di avere magari un luogo dove creare cose ma sì perché poi è comodo le tue luci hai i tuoi affetti anche qua intorno immagino che anche per te questi oggetti ti ispirino la vedo un paio di scarpe che è fantastico che erano tecnologiche già negli anni 80 io ho il modello 2 le adapt quelle si allacciano davvero si allacciano davvero ma attenzione mi hai chiesto qual è il prodotto più figo che ho provato ultimamente un paio di scarpe di una start up italianissima con la suola che si può gonfiare e presenta il concetto air sì o il pump di Reebok praticamente dei compressori gonfiano la suola in base al tuo peso ha una pressione diversa e esce fuori una specie di tacchetto che ti consente di camminare anche su terreni accidentati come se fosse asfalto e quindi questo agevole la camminata agevole la camminata anche la postura e poi ha dentro giroscopi accelerometri quindi ti può dire quanto stai seduto quanto stai in piedi in maniera molto più precisa rispetto agli smartwatch quanti passi fai ma questo anche in ambito medicale può avere delle implicazioni incredibili un domani perché puoi magari compensare una scarpa rispetto all'altra infatti stanno studiando questa roba tra l'altro sempre a proposito di equilibrio tra le collaborazioni che fai che è una cosa per cui magari io faccio un altro lavoro cioè io faccio altre cose quindi tendenzialmente magari quando c'è una tipologia di prodotto se io ho un partner bene o male resta quello perché ne condivido i valori mi piace portare avanti le cose tu giustamente nel tuo lavoro non ti puoi affiancare solo uno se no fai le recensioni solo di un telefono no? come come gestisci questa cosa di equilibrio tra tutti nel senso quando fai una cosa pensi che l'altro possa essere geloso o quell'altro ormai poi tra l'altro un settore in cui ci sono tante veramente tante aziende dalle più grandi alle più piccole tu ti senti libero o ci pensi ogni tanto? no sempre libero quando provo un prodotto lo provo proprio in maniera atea ok non penso se c'è la collaborazione non c'è tant'è che a volte c'è non c'è ma a prescindere tutte le cose però che consiglio anche se sponsorizzate è perché comunque lo provate no no quello sì però non so anche nella vita di tutti cioè se ci metto questo rispetto a oggi per uscire come hai messo qua rispetto a un altro no? non ti fai minimamente questa paranoia non me la faccio perché non posso farmela ah non c'è il tempo di farmela io ho talmente tanti prodotti da provare che veramente oggi provo uno domani provo un altro chiaro chiaro e questo mi dà anche la possibilità di avere una visione sul mercato e su tutti i prodotti perché secondo me provare solamente un prodotto non ti porta a un giudizio corretto perché non è la visione globale dei prodotti che sono in giro sarebbe molto vincolante per te è un casino prima mi hai fatto l'esempio cioè mi hai chiesto se qualche collega è un po' così io ti dico i colleghi il 90% provano i telefoni faccio l'esempio di telefoni ma potrei fare certo con la sim secondaria come fai a capire come va un telefono con la sim secondaria io tutte le volte la mia sim principale la cambio da una parte all'altra riconfiguro il telefono perché anche quello fa parte della prova e ti fa capire come va il telefono sbattone però quello sbattone mi fa capire come va quindi quello è sbattone quello lo puoi dire quello lo puoi sbattone perché è una roba io ogni volta e ne cambio uno o due all'anno tutte le volte no devo rifare devo riloggarmi con tutti i social la me devo rifare tutti i contatti speriamo di non averli persi pensa a farlo cioè nonostante abbiano semplificato tantissimo questo processo sì perché adesso passano molti dati però i login e tutte quelle cose devi farli tu ma il cloud ci ha un po' salvato e pensa a farlo due barra tre volte a settimana no va bene allora basta che mi confermi che uno sbattone anche per te se no mi sembravi veramente troppo alieno quella è passione sbattone quella è sbattone invece questo lavoro comunque ti permette di fare anche un sacco di esperienze di viaggi di cose eccetera sei stato recentemente a Cupertino a Cupertino a Cupertino Cupertino è la pronuncia la pronuncia no sei stato cioè qual è la più bella che hai fatto fino ad oggi di esperienza beh devo dire che Cupertino per la prima volta è stata tanta roba per quello che rappresenta forse sì per quello che rappresenta ma anche per quello che è perché per un architetto appassionato di tecnologia ah certo quegli edifici sono pazzeschi cioè proprio a livello progettuale sono incredibili pensa a te che lo Steve Jobs Theater sta su con dei vetri cioè il tetto è appoggiato solo a dei vetri quindi sembra galleggiare ah e tu dici vabbè non è così difficile sì ma pensa quando piove l'acqua come fa a scendere primo la corrente come fa a portarla sul tetto perché ci sono le luci ovviamente dentro al teatro l'audio gli impianti cioè dove passano e l'hai scoperto? non ancora tra un vetro e l'altro probabilmente allora quello è proprio è proprio il tuo come dire la tua mecca cioè c'è dentro sia la tecnologia che c'è la storia da dove un po' sono partite tante cose che hanno cambiato il mondo e poi c'è anche l'architettura il design è stato un bel viaggio gli altri viaggi molto fighi sono quelli organizzati spesso dalle case automobilistiche per farti provare le macchine soprattutto quando le macchine magari da fuori strada così ti portano in posti veramente belli chiaro bello io ho fatto solo una cosa un giretto con te in Lamborghini l'anno scorso bello però è stato molto emozionante io non ero mai salito su una Lamborghini devo dire che fa che fa un effetto fa tanto rumore fa tanto rumore ahimè dovremmo abituarci al fatto che hanno sempre meno rumore sì ma anche quei prodotti lì secondo te che hanno fatto del rumore il loro marchio di fabbrica sì nel senso c'è una deroga per i piccoli costruttori ma a 2035 le macchine comunque saranno tutte elettriche anche perché i costruttori hanno investito un botto di soldi in quella direzione lì adesso non puoi cambiargli le carte in tavola quindi sarà così però per i piccoli costruttori però un Harley una Lamborghini avranno il silenziatore praticamente secondo me lo fanno artificiale ogni tanto ho visto delle robe girare artificiale non è questa roba ma secondo me è anche giusto dare una deroga a quei costruttori che fanno piccole produzioni perché ci sono contesti cioè tu immaginati una Milano piena di Lamborghini c'è rumore bordello cioè non è bello quindi c'è una mobilità urbana che secondo me deve essere di un certo tipo una mobilità extraurbana che può essere anche di un altro tipo quindi non sono un assolutista io amo le macchine elettriche comprerò una macchina elettrica oggi se non avessi mille auto in prova certo ma chi ha una Lamborghini non lo demonizzo anzi se ovviamente non la usa per fare 100 metri andare a fare la spesa e farsi sentire che fa brum brum certo cioè va tutelata anche quella assolutamente quella nostra tradizione che abbiamo e sul discorso va bene dell'elettrico no anche sulla macchina scusami ma anche su quella cioè come fai a gestire quando devi provare le auto ad esempio io ultimamente non ne uso più magari di quello incomodato d'uso d'altro perché devo dire se anche moto ho provato tante moto devo andare portare poi l'altra moto dove la lascio no allora devo tornare devo riportargliela tu come ti gestisci anche quella è un po' sbattore abbiamo tirato i fuori gli sbattoni i video li vedi cacchio è tutto bello tutto figo l'altro giorno per esempio vado a prendere una macchina perché poi devi andare a prenderle ma che te le portano a casa non è pronta è pronta alle 5 sono le 2 e mezza ma cosa fai? 10 km andare in bicicletta 10 km tornare in bicicletta e la macchina è stata a prendere il giorno dopo quindi quello è sbattone però anche lì cavolo mi rendo conto che ho una fortuna incredibile per un appassionato di auto ogni settimana avere una macchina diversa e poterle provare tantissima roba beh e lì cos'è tu hai una tua auto e poi hai quelle che provi? io non ho più l'auto da quando ho capito che era ferma in box per due anni questa cosa l'avevo era ferma in box ma è usata alla fine l'ho venduta e basta sono senza auto certo anche perché a Milano si riesce abbastanza tranquillamente a stare senza auto già fuori è un po' più complicato sono un super amante della bicicletta quindi quando posso usare la bici per andare per tutto chiaro 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 anche perché poi sull'elettrico tu ti sei convertito quasi subito hai detto che già qualche anno fa giravi ma sì perché comunque è una cosa culturale è una cosa culturale e di esperienza devi provarlo per apprezzarlo e poi non è per tutti anche qua io odio gli assolutismi quello che dico macchina elettrica per tutti no se io faccio la gente di commercio faccio 500 km al giorno e faccio tutta autostrada ma il diesel va ancora bene ma quante persone fanno così il 3% della popolazione che non impatta neanche da un punto di vista ambientale no se invece in città tutti usassimo l'elettrico in città sarebbe sicuramente meglio non dico che è il toccasana ma sarebbe sicuramente meglio però io passerò all'elettrico e passerò se dovrò coprire una macchina non tanto per queste questioni quanto per il piacere di guida ok l'elettrico tu schiacci va coppia subito silenzio è proprio bello da guidare più riposante se vai in viaggio in elettrico arrivi riposato fatti 500 km con la Lamborghini beh sì fatti 500 km con l'elettrica scendi in maniera diversa devo dire che quell'esperienza con la Lamborghini mi ha invece fatto capire un'altra cosa che nella vita sia alle cose brutte che alle cose belle ci si abitua cioè nel senso ho tutto la prima parte della giornata micchia sono sulla Lamborghini guardatemi davo piano facevo a fine giornata non devo che me l'ero dimenticato però ti dirò un'altra cosa e ci sarà sempre qualcuno che ce l'ha più lungo di te quello sempre è vero c'è un'altra aneddota vai 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 spiaggia Sicilia l'anno scorso una delle spiagge più belle della Sicilia Marzamemi giù di lì arriva lo yacht penso di un magnate russo ancora a largo arrivano con il tender si piazzano in spiaggia addirittura la spiaggia gli costruisce un mini campo da beach volley perché questi erano così figli e ricchi che sai cosa arriva il giorno dopo lo yacht di Armani che era grande il doppio questo sembrava un poveraccio è come Checco Zalone quando dice al figlio questa non è la felicità questa barca quella è la felicità e c'era la barca molto più grande beh e sugli yacht non hai provato non ti sei ancora buttato? mi piacerebbe però dai poi diventa troppo beh però c'era un filo conduttore sì la tecnologia può essere il filo conduttore di tutto perché ormai oggi tutto ha un chip questo è un bene questo è un male ma tutto ha un chip e la parte di business per te da che cosa è dovuta? dalle collaborazioni dalle visualizzazioni youtube le pubblicità entrambe le cose le visualizzazioni e le collaborazioni con i brand ma le collaborazioni sono più che altro su servizi o brand terze ok di software o cose così che ma non sono mai nella recensione ma il sito lo usi ancora? certo è un repository dei miei video anche perché se devi andare a fare una ricerca filtrata per che ne so dimensione del display marca modello su youtube fai fatica ok invece se quando vuoi comprare un telefono mi rendo conto che tanti vanno sul sito per filtrare cercare recensioni magari tutti i motorola tutti i samsung tutti gli apple quindi tu dal sito riesci a mettere tutto insomma in un archivio speciale dove riesci sì è una sorta di mio archivio ok che poi è diventato un po' quasi quello per tutti un po' il sito vetrina dove comunque atterri vedi un po' tutto quello che fai e di esperienze extra a youtube o comunque al tipo di video che fai te ne hanno mai fatte? di proposte di cose da fare dovevo fare un libro scrivere un libro avevo detto sì poi mi sono reso conto che non c'era sbattona sbattona il libro sbattona il libro perché non riesco perché non è tecnologico no perché non mi è piaciuto scrivere ma è sempre anche sul mio blog sì la recensione è una carta di identità del telefono cioè la batteria dura così cioè non sono uno che ama scrivere amo parlare per quello lo faccio video e non scrivo tanto e quindi mi sono reso conto così ma no Andrea lo facciamo scrivere a un ghostwriter ma no non lo so esatto non riesco come dicevo prima a delegare chiaro e quindi è anafragato e invece il fattore anagrafico ti ha mai fermato nelle cose che fai? no per il giorno del mio compleanno vabbè a parte sì guarda non volevo dirlo ho detto se vuole la racconta a lui cacchio 49 anni giorno del mio compleanno sposto un pacco trax sono rimasto di due giorni dovevi venire qua e mi hai scritto che avevi preso il colpo della strega e a parte fisicamente diciamo che poi delle difficoltà ci possono anche essere comunque tu hai anche una famiglia hai una moglie hai un figlio eccetera questa cosa qua ti ha mai limitato oppure insomma tua moglie ti supporta un sacco ed è una grande ti dà anche una mano insomma tu la tiri in mezzo nei video e non si tira diciamo indietro suo malgrado no lei odia invece non potrebbe sì mi odia quando la tira in mezzo in realtà sì grandissimo supporto perché ovviamente quello che faccio porta via tempo a loro è perché io mi immagino se il tuo competitor è anche un ragazzo di vent'anni questo lo vedo anche io ogni tanto no che comunque lui dalla mattina alla sera può solo ed esclusivamente dedicarsi a fare le cose più assurde o più strane o più strampalate legate anche alla tecnologia ho lasciato un po' andare prima la soffrivo questa cosa prima mi dicevo cavolo vorrei essere lì vorrei farlo anch'io però non posso perché c'ho Gabri per portare la scuola di su di giù di lì adesso sono arrivato a una maturità un'età tale per cui dico pazienza faccio altro comunque anche se questa persona può fare video più fighi di me più visualizzazioni più tutto mi rendo conto che alla fine la gente per comprare un prodotto passa da me perché si fida per tutto quello che ti ho detto prima e quindi questo mi dà la forza di dire ma beh chi se ne frega mi piacerebbe ma però diciamo hai comunque un livello superiore o comunque poi hai comunque uno status che tu dici ormai quelle cose le ho fatto le dovevo fare eccetera posso dedicare un'altra cosa però la cosa bella è anche un po' per chiudere il c'è comunque un riferimento per i ragazzi giovani che fanno questo questo mistero io lo vedo conoscendo un po' un po' tutti e tutti insomma è una cosa che di cui ti accorgi è una cosa che vivi comunque che rapporti hai instaurato con i tuoi colleghi o con gli altri creators cioè io ti vedo spesso anche all'interno di video di amici che fanno cose con età magari completamente diverse da tu e da te secondo te come sei visto da loro secondo me da qualcuno con un po' di invidia passami il termine soprattutto da quelli che cercano di copiarmi e sono comunque le persone a cui dico ma fai qualcosa di diverso tant'è che chi anche sul tech fa oggi qualcosa di diverso va alla grande chi cerca di copiarmi no perché comunque ci sono già io certo quindi comunque ho un buon rapporto con il 90% delle persone che parlano di questo dello stesso argomento sì infatti insomma mi è sembrato sempre questo io sono comunque convinto di una cosa nella vita ormai dai miei capelli bianchi posso dire che è vero che il cadavere del tuo amico prima o poi se ti siedi lo vedi lo vedi passare prima o poi lo vedi passare e ti sei imposto degli obiettivi per il futuro o ragioni sul sì di fare un po' meno davvero? sì fare un po' meno fare un po' meno dedicarmi un pochino più a me stesso la famiglia adesso sto anche cambiando casa dedicarmi un po' più a casa nuova starmi lì sul divano guardarmi un film cioè perché sembra ripeto tutto bello ma è bravo questa è l'altra cosa giornata tipo mi sveglio 6.45 Gabri va a scuola presto inizia alle 8 vado subito in studio inizio a fare cose riunioni giro il video eccetera eccetera arrivo a sera tendenzialmente 6.30 8.30 dedicati alla famiglia si fa da mangiare quando riesco quando sono a casa perché poi anche sbattone viaggione perché viaggiare è bello però poi quando viaggi due o tre volte alla settimana diventa sbattone anche quello e poi si rimette e poi le c'è in giro e poi devi montare uscire il video il giorno dopo le due di notte a montare a fare a provare le cose ma banalmente tu mi dici quando cambi telefono quando ti parli un'ora cambio telefono a letto configura a volte mi cade in testa così e quindi vorrei fare un po' meno sono combattuto tra fare meno e comunque mi piace provare le cose quindi me la propongono faccio fatica a dire no questa cosa non la provo però lì torna quella passione che ti ha spinto all'inizio infatti ero molto curioso e contento di fare questa chiacchierata con te proprio perché tu hai vissuto i due mondi stai vivendo i due mondi nel senso che hai il punto di vista di come erano le cose prima di come sono oggi c'è una cosa di cui hai nostalgia del prima per quanto in realtà poi quello che tu hai fatto è esploso cioè paradossalmente il settore su cui poi tu all'inizio avevi puntato tutto senza accorgertene è esploso ti posso dire che no non ho nostalgia perché cambiano i tempi e cambiano le persone cambia giustamente cambia tutto cioè è brutto dire ah ai miei tempi era bello così no è bellissimo anche oggi oggi vedo molta più frenesia molta più velocità ma mi piace anche questo a volte non riesco a starci dietro ma non è che lo condanno non mi dispiace forse preferirei ci fosse un pochino più di approfondimento da parte dei giovani cioè questa velocità fa perdere un po' l'approfondimento però va bene anche così bella Andrea grazie davvero per essere passato e della chiacchierata la prossima voglio venire io a trovarti in cantina nel tuo studio sono molto curioso ma io immagino non è la casa dell'ispettore gadget cioè che entri c'è il riconoscimento uno si immagina subito quella nuova potrebbe essere ah vedi io mi immagino di entrare nel futuro quella nuova potrebbe essere così e allora non vedo l'ora a presto grazie mille